Mister, in questa settimana di cambiamenti inizia ufficialmente la tua avventura alla guida degli Under 16. Le tue prime sensazioni? Perché a 30 anni hai già a che fare con una leva importante in una categoria importante. Assolutamente sì, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la società perché mi ha dato veramente un'opportunità importante. Sono contento perché il mio percorso è iniziato già dieci anni fa e questo è un punto d'arrivo, ma di inizio spero che per me è molto importante. Ho trovato un gruppo eccezionale, devo dire che faccio veramente i complimenti allo staff che c'era prima, al mister Melucci, a tutte le persone che hanno lavorato con questi ragazzi perché ho trovato impegno, serietà, qualità e una voglia che veramente mi ha stupito, mi ha sorpreso. Non avevo dubbi conoscendo mister Melucci, però veramente sono rimasto impressionato in maniera molto, molto positiva. C'è un passo in avanti importante anche dal punto di vista anagrafico perché naturalmente dai bambini vai ora ad avere a che fare con una leva di adolescenti. Quali sono i cambiamenti che cercherai di adottare ai tuoi lavori e appunto su cosa punterai in queste tue prime settimane di lavoro? Assolutamente, innanzitutto se posso saluto la mia piccola leva del 2011 perché è una leva eccezionale anche quella. Credo che il futuro dell'Entella sia assolutamente in ottime mani con leve così promettenti e saluto veramente col cuore un gruppo che mi è rimasto dentro e mi ha emozionato moltissimo. Per quanto riguarda questa leva ho avuto la fortuna di farla come collaboratore per diversi anni, con maestri come Paolo Castorina, come Ferruccio Bonvini, quindi conosco un pochettino quelle che sono le dinamiche di questi ragazzi, di questa fascia d'età qua. Chiaramente le proposte vanno a variare, però la cosa che secondo me accomuna sempre tutte le età è la passione per il gioco, la passione per voler essere protagonisti, voler vivere il gioco come va vissuto, ossia come una cosa presa con serietà ma con il divertimento giusto che ci deve essere sempre all'interno del settore giovanile. Sicuramente l'Under 16 è una tappa importantissima perché poi i ragazzi passano all'Under 17, alla primavera e sono a un passo dalla prima squadra. Cercheremo di accompagnarli in questo mese e mezzo, due mesi che mancano alla fine, nella maniera più utile e più importante per la loro crescita in maniera totale, cercando di rispettare tutti quelli che sono i punti fondamentali per i ragazzi di questa età. Come ti hanno accolto i ragazzi? Devo dire che sono stato accolto in maniera eccezionale, ripeto, ho trovato ragazzi che dimostrano più anni di quelli che hanno e questo fa ben sperare perché avere ragazzi in questa fascia d'età qua con tutte le problematiche possibili legate a un'età molto delicata, con la pandemia che ha inciso in maniera importante sull'aspetto psicologici, ho trovato ragazzi maturi, ragazzi che hanno capito che il cambiamento è stato fatto per il bene della società e hanno capito che devono continuare a lavorare in maniera importante per la loro crescita e per il loro futuro. Ultimissima domanda, sei ovviamente molto giovane, quindi questa è soltanto una delle tappe di quella che sarà poi la tua carriera, però già che tappa è, quanto sei motivato, quante voglie hai di fare bene? Beh, sono motivatissimo, ho una voglia di fare bene incredibile, per me il calcio è veramente quotidianità, nel senso che io vivo il calcio tutti i giorni, cerco di aggiornarmi, cerco di studiare, cerco di viverlo in maniera complessiva e questa occasione qua è veramente una cosa inaspettata, ma sulla quale puntavo perché ho sempre cercato di lavorare in questa direzione qua. Sono fortunato di essere all'interno dell'Entella perché è una società che permette alle persone di crescere, permette alle persone di fare un percorso in armonia, con serietà, con voglia, con passione e quindi cercherò veramente di mettere tutto me stesso per far sì che questa opportunità qua sia utile a me, alla società e soprattutto ai ragazzi che sono poi i principali protagonisti.